salve uccinettine mi è stato chiesto di fare un video su un fiore in cotone che ho messo su una blusa estiva una canotta quella in stile granny cioè con le mattonelle e che ha dei laccetti arricciolati come dei boccoli che scendono da questo fiore allora io lo faccio qui in lana ma chiaro che voi lo fate con quello che vi pare l'uncinetto che vi pare allora anello magico in questo modo all'interno dell'anello magico 12 mezze maglie alte 1 2 3 4 eccetera eccetera finite le 12 mezze maglie alte stringete il cerchio e chiudete con una maglia bassissima adesso una catenella nella primissima maglia della catenella fate una maglia bassa in quella che segue ne fate due poi una e poi due e andate avanti con questa sequenza cioè prima una maglia bassa e poi due nella stessa maglia per tutto il giro una e due avendo alla fine un totale di 18 maglie alla fine del giro maglia bassissima nella prima maglia bassa adesso da qui 1 2 3 catenelle nella maglia che segue una maglia bassa e altre due maglie basse nelle maglie successive per un totale quindi di 3 maglie basse di nuovo 3 catenelle e nelle 3 maglie successive 3 maglie basse otterrete in questo modo 6 asole alla fine del giro quando sto per finire la terza maglia bassa non la faccio ma da qui inizio direttamente il prossimo giro di riempimento delle asole per creare i sei petali e quindi nel petalo successivo due mezze maglie alte due maglie alte una e due una maglia alta doppia e poi di nuovo a scendere due maglie alte due mezze maglie alte chiudo con una maglia bassissima sulla maglia bassa centrale ne ho 3 1 2 3 nella seconda chiudo con una maglia bassissima in questo modo e ricomincio a fare l'altro petalo identico ripeto questa sequenza per quindi in totale per sei volte maglia altissima due maglie alte due mezze maglie alte una e due e bassissima nella seconda maglia del giro precedente vado avanti così appunto per creare tutte e sei per allora finisco questa prima parte del fiore appunto con una maglia bassissima sempre sulla seconda maglia bassa sottostante e poi qui chiudo scusate mi sono cadute le forbici e qui taglio il filo e chiudo il lavoro poi questo filo farò lo farò passare sotto le maglie qui dietro e lo vado a nascondere adesso occupiamoci del fiorellino più piccolo centrale e poi dei ricciolini decorativi nodo d'inizio con il nuovo colore un nuovo filo perché chiaramente potete fare anche sempre dello stesso colore vado qui dove ho le 12 e mezze maglie alte vedete mi infilo tra una e l'altra in questo modo e con una maglia bassissima aggancio questo nuovo filo poi per non avere fastidi già che ci sono e lavorare meglio con un altro uncinetto più piccolo mi tiro dentro sul retro ecco la codina così non mi dà fastidio ok non la vedo più allora da qui uno due tre catenelle mi vado a infilare nella maglia mezza maglia alta successiva e gli riesco e riesco accanto facendo un'altra maglia bassissima da qui di nuovo 1 2 3 catenelle e passo a quella successiva facendo un'altra maglia bassissima e agganciando così le 3 catenelle 1 2 e 3 in quello dopo ne salto 1 praticamente vedete 1 2 e 3 faccio rivedere meglio salto questa vedete mi infilo qui e esco fuori di qua prendo il filo e maglia bassissima 1 2 3 salto questa vado qui ed esco di qua maglia bassissima quindi 3 catenelle saltate una e in quella dopo andate ad unire con una maglia bassissima 3 catenelle saltate questa e andate ad unire con una maglia bassissima 1 2 3 saltate questa e andate in quella dopo 3 catenelle 3 catenelle e fate l'ultima ri agganciandovi con una maglia bassissima nella maglia d'inizio in questo modo adesso andate a riempire ogni asola con 6 maglie alte 1 2 3 4 5 6 e vi agganciate sulla maglia bassissima del giro precedente con un'altra maglia bassissima e poi riempite anche tutte le altre asole con 6 maglie alte creando appunto 6 petali dunque per fare i riccioli che sono due potete farne 3 4 quanti ve ne pare ma due mi sembrano sufficienti fate una catena di base di 12 catenelle 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 nella seconda a partire dall'uncinetto fate due maglie basse e a seguire due maglie basse in ognuna delle maglie che seguono se invece della lana quindi in ogni catenelle lavorate due maglie basse e vedrete che la striscia pian piano si arrotola su se stessa creando appunto un ricciolo vedete si sta arrotolando alla fine quello che otterrete è questo se invece della lana usate il cotone dovete fare in ogni catenella 3 maglie basse invece di 2 perché il cotone che è più rigido si gira meno quindi ce ne vogliono 3 ok? 2 per la lana 2 maglie basse in ogni catenella per la lana 3 per il cotone ecco qua ovviamente questi riccioli li potete fare lunghi quanto vi pare sono io costabilito qui 12 catenelle quando avete finito catenella tagliate il filo tirate e fissate andate a fare un nodino con la codina dell'inizio per ecco per chiudere e quindi e 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